Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. I prigionieri della sezione infermeria del penitenziario di Montorio, dove è detenuto Filippo Turetta, hanno scritto una lettera per esprimere il loro punto di vista sulle condizioni carcerarie del giovane di 22 anni. Nella lettera, esprimono il loro disappunto per i giudizi fatti in pubblico prima di ascoltare Filippo o altri indagati, evidenziando la mancanza di rispetto verso i genitori che soffrono di una violenza psicologica. I detenuti megano di aver partecipato a proteste e affermano di non aver accettato favoritismi nella consegna dei libri a Turetta rispetto ad altri detenuti del carcere di Verona Montorio. Lui ha ricevuto in prestito alcuni romanzi, tra cui la figlia del capitano di Alexander Pushkin. Inoltre, Gino Cecchettin, padre di Giulia, ha annunciato sui social di volersi prendere una pausa dall'ingegneria informatica per un periodo di lutto e riflessione. Ha espresso comprensione e sostegno ai genitori di Filippo Turetta, manifestando il desiderio di riprendere la vita con i suoi due figli. Allo stesso tempo, ha condiviso i suoi pensieri sulle difficoltà che le famiglie coinvolte stanno affrontando.